un saluto a tutti da snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su paladins ragazzi sono in compagnia di deso in questo game ciao a tutti e anche di vanishman che però non è il microfono non può parlare in questo momento magari lo recupererà più tardi magari no ve lo giuro non lo so e possiamo andarci a cercare una competitive ranked invalid ranked party non si può andare in più di due in party a più di due ok allora siccome non si può fare competitive in tre facciamo casuale perché altrimenti dovremmo fare in due ormai siamo in tre quindi facciamola così e direi di siege ovviamente siege ok abbiamo sistemato questo piccolo inghippo vediamo anche il mio fighissimo profilo di ranker in questo gioco ok meno male inizia della partita il mio profilo di merda è stato occultato allora vediamo ma c'è uno che non ho comprato e me lo compro subito veramente non ho 12 mila c'ho 10 mila incredibile ho finito i soldi non ci gioco da un po allora vediamo un po io ci vado di nessuno tankato io ci vado di raccos ragazzi cioè ci domino con questo eroe vai di victor ce li spanziamo siamo in serpente ci sono ci sono non sono aff non sono di allontana un po dal monitor giusto dentro sorry my bad ok ho finito l'energia devo recuperare e arrivo dal fianco così mentre recupero energia ce li spanzo ok buon livello di energia questo tizio mi riflette danni ma oh mi stanno facendo seriamente male mi stanno facendo seriamente male vi scudo intanto recupero sto seriamente danneggiato non mi sono riusciti a fare veramente per un pelo ok prendiamo la zona questo game lo vedo in zi vedo in zi vedo in zi ma becca di stase quella di headshot perennemente in testa vami un bellissimo uber time no mi hanno sciottato male proprio dai dai bellissimo ok un 2 1 dignitoso sono dignitoso con questo tank metto 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 questo perché quel quel maledettissimo dinosauro come cazzo si chiama ma koa ha già scassato ok perfetto dove sei ok tizio a destra bellissimo ci stanno due qua a sinistra drogots sopra io sto in fil di vita me ne vado non so se abbiamo l'healer c'è no non c'è healer qua mi devo recuperare devo recuperare veteran style perfetto perfetto potuto ma koa cazzo mi è scappato per un pelo sto verme calla giù continuo a pushare il pelo il pavlov arrivo arrivo c'ho pure una ultimate pronta prendete questo scudo e allora vi ulto vi ulto vi ulto brutto booo oh mi hanno fatto ma li ho abbastanza devastati eh li ho abbastanza devastati ci sta ci sta mi aumento ancora l'energia e questa facciamo un 4 a 0 che se lo ricorderanno se lo ricorderanno se lo ricorderanno se lo ricorderanno vai su drogots vai su drogots oh bellissima ulti bellissima ulti non scappi non scappi non scappi dio devastato guarda che skin che c'è su drogots che bella dove? ah si infatti skill top dello stile grande eccolo vanish grande ulti eh ok non ha il microfono però c'è è tra noi bell 12 2 allora di moral boost che ho visto che a questi mi piace apprendersi le ultimate in faccia e quindi al resto sono puntuale quindi dritti al centro sparo nel mucchio in alto buon livello di energia buono 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 dai va bene va bene no 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 cazzo ho finito le spinte merda 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 cazzo avevo finito gli spin totalmente fuori misura dai arrivo stanno al 42 fermi no no c'è 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 mi ha mi ha tolto la ulti però non mi ha ultato e poi mi hanno pure ucciso ma vaffanculo va vaffanculo cioè mi ha fasullato la ulti brutto proprio cioè indecente davvero indecente da dove sta volando dove sta volando ok è nostro è nostro è nostro è nostro è nostro g g vediamo se riusciamo dove andate a atterrare ok ci sta questo makoa avrà la vita lunga come quella di una farfallina alla fine dell'estate ciao makoa salutami ciao drogots ciao 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 una bella double kill dove sta il pavlov eccolo andiamo a fushare il pavlov oh attenzione sono spatafleshate da qualche parte dove sta oh makoa merda 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 mi ha spallettonato makoa ma l'ho finora abbastanza tritato quindi ci sta dai dai è un push facile in un minuto in 39 sarà un devasto di game vvgg finally it's over oh c'è uno sopra vai beccatevi diamo un po makoa makoa è un fottuto problema però lo riusciamo lo riusciamo a buttare giù easy easy veramente easy vediamo quest'altro pure c'ho la ulti per la fine c'ho la ulti per la fine cazzo per pochissimo per pochissimo ok e tu che ci fai qua muori facile muori easy muori easy e adesso voi no mi uccidono sicuro mi uccidono sicuro oh però l'ho fatto makoa ciao makoa ciao portate la vittoria il facilissimo carrettino grande push easy push easy se non push easy arrivo g g easy bella ooh wreck us ah ma questo questo no è un vvgg finally it's over ah si questo vabbè con la ulti mi sa ma in serio boom ciao ah gli è piaciuto ok direi che quindi per questo video è tutto abbiamo fatto anche un best play quindi va bene così vediamo lo score un dignitoso 10 6 con 53 k damage ho fatto anche più danni di tutti e non più shield però va bene allora che altro dire ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate ovviamente un bel like un commento fatemi sapere che ne pensate saluto deso ciao ovviamente anche vanish che non ha il microfono vi saluto anche a voi e ci vediamo come sempre nel prossimo video ciao ciao